Salve a tutti, per chi non mi conosce sono Giuseppe Chiapparo, docente di informatica e ho partecipato al concorso STEM 2021 per la classe di concorso A041. Voglio mostrarvi con questi video la mia presentazione che ho portato alla commissione durante la fase orale e mi era stato richiesto di fare una progettazione di un'attività didattica legata al progetto e le sue fasi. L'andiamo a vedere quindi nelle sue diverse parti, partendo quindi dalla descrizione. Ho effettuato una descrizione del contesto classe e di quelli che sono i prerequisiti che il gruppo classe deve avere per poter affrontare questo tipo di argomento. Poi ho pensato di soffermarmi su quello che è lo stimolo iniziale che noi diamo ai ragazzi per far comprendere l'importanza dell'argomento che andranno a studiare e poi quello che è il prodotto che i ragazzi stessi dovranno realizzare per completare l'unità di apprendimento. Quest'unità di apprendimento poi vede delle competenze chiave, come sono appunto quelle europee, che i ragazzi dovranno sviluppare e soprattutto i ragazzi dovranno riuscire ad ottenere e raggiungere quelli che sono degli obiettivi specifici di apprendimento. Successivamente alla commissione ho cercato di far comprendere come quest'unità di apprendimento legato al progetto e alle sue fasi potesse attuarsi nelle diverse quindi fasi, partendo dalla fase iniziale di analisi dei prerequisiti fino alla fine della valutazione del lavoro che i ragazzi vanno a svolgere. E poi ho mostrato quelle che sono le metodologie didattiche e le TIC utilizzate per spiegare gli argomenti e per affrontare anche eventuali fasi progettuali, per poi soffermarmi sui contenuti disciplinari per pochissimi slide in realtà e poi andare a descrivere le strategie per la didattica inclusiva e quindi per i ragazzi con bisogni educativi speciali. Ho concluso quindi la presentazione con quelle che sono invece le forme di valutazione e di autopalutazione che ho messo in campo quindi al termine e anche nella fase di itinere, in itinere diciamo di quest'unità didattica di apprendimento. Allora, andando avanti quindi cominciamo con il contesto classe. Vi faccio vedere quello che ho fatto io. Ho iniziato descrivendo un contesto classe, nel mio caso si trattava di un argomento affrontato in una quinta superiore e in un istituto tecnico o informatico. Ho descritto anche la composizione della classe, soprattutto soffermandomi sulla presenza di alcuni alunni con bisogni educativi speciali. Descrivendo in questo caso la traccia era libera, quindi a mia scelta un BES per disturbo d'ansia, un disturbo specifico dell'apprendimento con dislessia e uno misto con disgrafia e disortografia. All'interno delle slide ho cercato sempre di fare riferimento comunque alla normativa e quindi mettendo con un asterisco quella che potesse essere quindi la legge che va a richiamare il fatto, ad esempio in questo caso, che è stato stilato un PDP, un piano didattico personalizzato, per questi tre ragazzi, quindi la legge 170 del 2010. Poi sono passato a descrivere quelli che sono i punti di forza e di debolezza di questa specifica classe che stavo immaginando. I punti di forza abbiamo in questo caso descritto essere la grande propensione dello sviluppo software, una grande capacità di utilizzo delle TIC, si tratta di una classe quinta che dovrebbe essere abituata ormai alle tecnologie informatiche e della comunicazione, e una classe in cui c'è un clima sereno e collaborativo soprattutto tra i diversi compagni, quindi delle attività di gruppo verranno sicuramente più semplici da affidare a questo tipo di classe. Le debolezze invece di questa classe, nonostante è una classe quinta, ho inserito il fatto che alcuni alunni continuano ad avere problematiche nel trovare collegamenti tra le diverse materie, anche perché questa è una difficoltà che molto spesso riscontriamo anche noi docenti. Poi sono passato a dire che l'altra debolezza è quella di progettare dei programmi complessi e di avere una minore capacità di assimilare i concetti se non ritrovano riscontro nell'attività pratica. Queste debolezze in realtà io le ho scelte perché poi, in base a quello che ho deciso di svolgere con i ragazzi in questa unità di apprendimento, effettivamente sono attività che cercano di togliere in qualche modo questo tipo di debolezze. Poi una delle fasi che secondo me, almeno nel mio caso, la commissione era molto interessata era la collocazione nel curriculum di questo tipo di argomento che andavo a spiegare e quindi in quale preciso parte, diciamo, dell'anno prevedevo di andare ad insegnare. Non solo questo, ma soprattutto anche il numero di ore che vado a dedicare a questo tipo di attività didattica. Mi è stato infatti detto che avevo previsto 5 ore in laboratorio per effettuare un determinato tipo di progetto. La collega, ovviamente o meglio l'esaminatrice, ha detto che secondo lei erano un po' poche le ore da passare al laboratorio e che avrebbe magari aumentato quel tipo di numero di ore. Ho descritto quelli che sono i principali contenuti disciplinari che avrei dovuto affrontare con i ragazzi e ho detto che questo tipo di attività didattica si inserisce all'interno di un'unità di apprendimento quindi di un percorso multidisciplinare più ampio e che possa coinvolgere più materie dal titolo Il lavoro e la gestione del progetto. Una volta fatto ciò sono passati per i requisiti, cioè quelle nozioni, quindi conoscenze e quelle abilità che i ragazzi devono possedere prima di iniziare a svolgere questo argomento. In questo caso quindi dovrebbero avere delle conoscenze di organizzazione di imprese e delle grandi capacità invece nell'organizzazione delle basi di dati e magari cominciare ad avere una conoscenza di come si sviluppano le pagine web. Saranno utili per il progetto che poi andiamo a dare ai ragazzi. Le abilità quindi sono la comprendere facilmente le interdipendenze tra i processi aziendali ma anche lo sviluppo delle applicazioni web-based. Una volta fatto ciò sono passato a quello che è lo stimolo iniziale. Visto che si parla dei progetti ho pensato come stimolo iniziale la semplice visione di un video. Un video che ho riportato qui in piccolino e che sarebbe il video dei Blue Origin quindi il progetto di Jeff Bezos che è riuscito a realizzare nel 20 luglio 2021. Quindi si parla di uno stimolo sicuramente molto recente quindi concreto con cui i ragazzi possono comprendere l'importanza di un progetto che poi è durato anche più di vent'anni e quindi qual è l'importanza di studiare come fare dei progetti e di riuscire a realizzarlo nel migliore dei modi. Una volta fatto ciò ho descritto quello che invece è il prodotto che mi aspetto i ragazzi vadano a realizzare. Il prodotto si tratta di una web app piccola con due linguaggi HTML e PHP e quindi descrivendo un pochino cosa deve fare questo tipo di applicazione. E le istruzioni operative invece da dare ai ragazzi erano quelle di dividere innanzitutto i ragazzi in 3-4 persone per ogni gruppo quindi dividerli in gruppi in maniera eterogenea e questa divisione viene fatta dal docente. E poi ovviamente l'altra istruzione da dare ai ragazzi è quella di effettuare una relazione scritta in cui vengono inseriti anche quelli che sono i principali diagrammi che si fanno durante la progettazione di un'applicazione come quella per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Passando poi per cosa? Sono passato a descrivere quelle che sono le competenze e gli obiettivi di apprendimento ma in principal modo ho descritto il fatto che parlare di progetto potrebbe inserirsi all'interno di un'unità di apprendimento multidisciplinare quindi coinvolgere il collega di inglese perché magari il sito viene scritto completamente in lingua inglese coinvolgere sicuramente il collega di scienze motore perché le Olimpiadi sono argomento di quella materia e poi visto che il progetto delle sue fasi viene insegnato all'interno di una materia che si chiama proprio gestione, progetto, organizzazione d'impresa in realtà collegarsi anche con il collega di informatica che spiega proprio il database e come effettuare le pagine web dinamiche quindi un lavoro multidisciplinare con quattro docenti o comunque quattro materie che possono cooperare insieme. Gli obiettivi quindi specifici di apprendimento sono legati quindi alle competenze che i ragazzi devono sviluppare quindi devono essere in grado di gestire progetti e di redigere relazioni anche in ambiti professionali poi ho descritto le conoscenze che i ragazzi acquisiranno dopo questa unità di apprendimento partendo quindi da che cos'è un progetto, qual è il ruolo del project manager finendo anche sul cercare di riuscire a comprendere le diverse fasi che ha un progetto e i principali diagrammi che aiutano a definire un nuovo progetto. Le abilità sarà proprio quello di riuscire quindi a comprendere e a realizzare le specifiche e un progetto ICT e anche riuscire a realizzare concretamente dei diagrammi anche attraverso del software informatico e a realizzare la vera documentazione tecnica che serve per fare un progetto. Infine ho descritto come questo tipo di attività di unità di apprendimento va a inserirsi all'interno delle otto competenze chiave europee descritte all'interno della raccomandazione del Parlamento europeo del 2018 quindi riportando a destra le otto competenze chiave e invece a sinistra un elenco puntato quelle che sono le competenze chiave che questo tipo di attività di apprendimento va a stimolare maggiormente.